La scorsa settimana a Caltanissetta, nel centro storico per l'esattezza in via Mussomeli, è crollata una casa. Era una casa abbandonata, una casa già transennata. Purtroppo però è crollata, fortunatamente non ci sono stati danni, né a persone né a cose. Con noi l'assessore all'urbanistica del comune di Caltanissetta, Andrea Milazzo, e in cantiere un programma di recupero del centro storico. A che punto è? Bene, intanto è importante dire che l'immobile crollato era già oggetto di ordinanza di sgombero e anche di ordinanza di ripristino, ovviamente purtroppo non ottemperata dai proprietari. Questo è il grosso problema strutturale proprio del recupero del centro storico. Noi ad oggi abbiamo stimato i soli interventi di messa in sicurezza in 18 milioni e 300 mila euro. E parliamo di interventi su edifici di privati che non ottemperano le ordinanze e quindi integrano anche i reati, purtroppo oltre all'abbandono, di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina. Purtuttavia il comune non è più in condizioni di intervenire in danno perché la dimensione del fenomeno ormai ha assunto un'entità tale che ci impedisce di intervenire con risorse proprie. Per cui da un lato abbiamo istituzionalizzato questo fenomeno che ormai è comparabile a un vero e proprio evento calamitoso e quindi abbiamo chiesto anche alla regione con incontri informali che formalizzeremo presto, anche degli interventi legislativi appositi perché un comune è impossibilitato di intervenire di fronte a una situazione del genere. Può solo tamponare, come avete visto, fortunatamente i provvedimenti degli uffici che con molta pazienza cercano di contemperare le esigenze di soggiorno alle persone che vivono anche nei fabbricati vicini alla loro sicurezza, chiaramente riescono fino ad oggi comunque a garantire, a evitare che succedano cose peggiori. Però questo chiaramente non può più continuare. Abbiamo sostanzialmente istituzionalizzato questa carta del rischio che abbiamo approvato in giunta la scorsa estate, abbiamo inviato in Consiglio Comunale a ottobre ed è ad oggi in corso di esame da parte della competente commissione consigliare carta del rischio che sia approvata dal Consiglio Comunale istituzionalizzerà questo fenomeno e andando da un lato a permettere delle possibilità anche espropriative perché diventa un vero e proprio strumento o previsionare uno strumento di programmazione e dall'altro darebbe indirizzo e autorizzerebbe il sindaco lo legittimerebbe andare a chiedere le risorse agli organi superiori così come prevede la legge della protezione civile. Il Governo nazionale non erano stati stanziati dei fondi per il recupero della provvidenza? Ecco, questa è la fase emergenziale. Naturalmente noi non possiamo gestire l'emergenza sebbene partiamo da una situazione di assoluto svantaggio stiamo cercando di canalizzare le risorse proprio a recuperare gli isolati pericolosi. In questo senso abbiamo fatto innanzitutto abbiamo incanalato le risorse del programma di riqualificazione e residue che non erano state spese parlo del programma di riqualificazione del 1994 il cui accordo di programma si è chiuso nel 1998 le abbiamo canalizzate andando a richiedere la rimodulazione dell'accordo di programma per 3 milioni e 100 mila euro per recuperare i due isolati ormai pericolosi della provvidenza quindi partiremo da lì i documenti per l'accordo di programma sono stati inviati alla regione siciliana il Ministero ha già dato il suo assenso e stiamo aspettando l'istruttoria dell'accordo di programma da parte della Presidenza della Regione che provvederemo a sollecitare affinché avvenga il più presto possibile perché queste risorse non possono essere spese oltre il 31 dicembre 2014 quindi dobbiamo fare in fretta purtroppo sono delle somme che stavano andando in prevenzione e abbiamo recuperato